Quanto amate i libri? Non solo i vostri preferiti, non solo quelli che avete in casa. I libri per quello che sono e per quello che rappresentano. Il brano di oggi dura sei minuti ed è tratto dalla raccolta Faenza tieni botta racconti poesie e pensieri sull'alluvione del maggio 2023 edita da tempo al libro. È una storia sorprendente, emozionante. Ascoltatela come se la leggeste di nascosto, in un luogo segreto, silenzioso, per esempio una biblioteca. State ascoltando Perfetti Sconosciuti, un podcast dove il piacere di leggere incontra il piacere di scrivere. Io sono Claudio Di Filippo e in ogni puntata sceglierò un testo scritto da voi e gli darò voce per farlo conoscere al nostro pubblico. Ma scopriamo subito il perfetto sconosciuto di oggi. Buon ascolto! Milena di Monica Romagna Legge Agnese Troccoli Pioveva addirotto ma c'era un'agitazione insolita e tanti vigili in giro. Milena era arrivata in biblioteca verso le sedici. Ma la signora Clara, insolitamente brusca e con un'urgenza strana nella voce, le aveva detto che no, oggi non poteva rimanere lì. E lei, Milena, doveva subito tornare a casa. Lei però non aveva una casa. Anche se non poteva dire che Cosmina e Adriana, i cugini di sua madre, non l'avessero ben accolta al campo. Le dimostravano anche affetto. Ma non era come a Torino. Niente scuola e nessuno che badasse a lei. Quasi una straniera in quella comunità. Meglio. Poteva andare e venire a piacimento e fare quello che le pareva finché la ignoravano. Un modo come un altro per essere libera. Milena annui, docile alle parole della bibliotecaria. Sorridendo, finse di andarsene, ostentando obbedienza, ammista a dispiacere per non poter rimanere e guadagnandosi un rapido sorriso di comprensione da parte della donna, indaffarata a sistemare libri e documenti. Adesso, nell'istante stesso in cui la signora Clara aveva distolto lo sguardo, Milena era sgusciata dentro la sala adiacente. Nonostante la mano torta, il suo corpo, piccolo ed elastico, le permise di introfularsi nell'angusto spazio situato nel punto più basso tra due scaffalature. Un po' di tempo prima aveva notato che i volumi degli scrittori americani della seconda metà del Novecento nascondevano questa nicchia che sembrava fatta apposta per lei. La mano le faceva più male del solito, ma voleva finire la piccola fadetta a tutti i costi. Non poteva prendere i libri in prestito, ma il personale della biblioteca le concedeva volentieri di fermarsi lì a leggere. Domattina si sarebbe mescolata ai primi clienti e lo avrebbe rimesso a posto. Nessun problema. Sentì il rumore delle porte esterne che venivano chiuse e finalmente si rilassò. Il dolore alla mano stava diventando insopportabile, ma Milena si fece forza. Con il ricordo delle parole della grande Ania, la matriarca del campo nomad di Torino. Per l'ultimo genita delle sue figlie, Ania aveva sempre avuto un'attenzione speciale. La donna le aveva spiegato che la sua mano era una fortuna travestita da disgrazia. Per ingannare il diavolo, Dio si era inventato quello stratagemma. Pochi volevano una sposa con una mano inabile e Ania aveva spinto la piccola a studiare e istruirsi. Quando le avevano imposto di partire per Faenza, dopo che il campo alla periferia di Torino era stato incendiato per la seconda volta, Milena si era disperata. Ma poi aveva scoperto la biblioteca. Ultimamente aveva trovato il modo di passare spesso lì dentro, anche la notte, per sfuggire ad attenzioni indesiderate che i suoi quindici anni attiravano, nonostante la mano deforme. Quella sera però qualcosa non andava. Da fuori proveniva rumore di cose pesanti che venivano spostate e voci che urlavano ordini. Milena decise di non preoccuparsene. Lì era al sicuro e poteva dedicarsi alla lettura. Si addormentò, cullata dal ritmo della pioggia pattente. Sognava di correre nella palude. Quando la realtà di un tocco gelato la svegliò di colpo, la torcia accesa illuminava il dito d'acqua che copriva il pavimento e le stava inzuppando la gonna. Da dove veniva tutta quell'acqua? Era una sua impressione o il livello stava rapidamente salendo? Corse verso le porte di uscita, ma si rese conto che non sarebbe mai riuscita ad aprirle. L'acqua era ormai al ginocchio. Doveva salire più in alto. Afferrò la scala scorrevole, ma l'agitazione la fece scivolare. Piombò nell'acqua scura e per un attimo finì sotto con la testa. Riemersa senza fiato e in preda a un panico ancestrale sarebbe morta. Morta affogata. Il freddo la riscosse. Posò il piede sul primo gradino della scala e fu vicino a cadere di nuovo perché qualcosa l'aveva sfiorata. Illuminato dalla torcia, un libro galleggiava con l'aspetto desolato di un naufrago alla deriva. In un istante Milena abbandonò la paura e fu pervasa dallo scomento. E l'epre non si sarebbe salvato niente. Tutte quelle storie sarebbero state inghiottite da quell'acqua melmosa che sembrava arrivasse direttamente dall'inferno. No, si disse. Freneticamente cominciò a spostare i volumi ancora all'asciutto sulla parte alta della scala. La mano la rendeva impacciata ma non si fermò. Ignorando il livello dell'acqua che quasi le arrivava alla vita, instancabile salì e scese i pioli di ferro mettendo nei ripiani più alti libri su libri come se da questo fosse dipesa la sua salvezza. Lo schianto la sorprese a metà scala e la corrente improvvisa la travolse e la trascinò fuori dalle porte di velte. Colpita dalla pioggia violenta con i piedi legati dal fango e gli arti intorpiditi, Milena chiuse gli occhi e si dolse di non poter abbracciare sua madre prima di morire. Lo strattone ai capelli la riportò alla consapevolezza di braccia che la tiravano fuori dall'acqua. Al petto stringeva ancora un libro. Per questo episodio ringrazio la disponibilità dell'editrice Tempo al Libro di Faenza, dell'amico Mauro Gorioli e dei 50 autori coinvolti nel progetto. Potrete ascoltare altri estratti nei prossimi episodi, mentre il libro è acquistabile presso le librerie e le edicole di Faenza. L'utile derivante dalle vendite sarà versato al fondo istituito dal comune di Faenza per l'emergenza alluvione. Continuate a mandare i vostri testi originali, pagine di diario, poesie o racconti brevi all'indirizzo perfettisconosciutilpodcast.gmail.com. Specificate un titolo, il vostro nome o uno pseudonimo e, se volete, anche una dedica. I prossimi perfetti sconosciuti potreste essere voi. E non dimenticate di condividere il podcast e di passare parola. Al prossimo episodio!